Ciao, sono Maddalena Poiana. Sono Eleonora Marosa, studentessa del Master in Pubblica Amministrazione di Ca' Foscari Challenge School. Ho conseguito la triennale in Scienze Cognitive e la magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica all'Università di Padova. Da circa 20 anni lavoro in una pubblica amministrazione e ho deciso di incrementare, di approfondire le mie conoscenze con un Master che fosse qualificante. Ho scelto questo Master per dare continuità agli studi. Per integrare la mia formazione umanistica con competenze più pratiche di tipo amministrativo e di gestione economico e finanziaria. Continuare a studiare e continuare ad aggiornarsi è fondamentale, per cui ho scelto questo Master proprio per le competenze trasversali e specifiche che mi poteva dare. Molti aspetti che nella vita quotidiana di una pubblica amministrazione ormai vengono tralasciati. Non lavoro in una pubblica amministrazione, sono una barista, però credo che nella vita bisogna sempre avere un piano B. Per questo ho scelto un Master che mi desse la possibilità di spaziare il più possibile tra le varie discipline. Dopo questo Master mi piacerebbe studiare e preparare dei concorsi per inserirmi in un ente pubblico, in particolare in un ente locale. Una volta finito il Master continuerò col mio lavoro, però mi riservo la possibilità di entrare nella pubblica amministrazione consapevole di avere anche un bagaglio di conoscenze molto più approfondito, molto più solido rispetto a prima. Anche se noi studenti abbiamo tutti competenze molto diverse, sia i docenti che le modalità didattiche di gruppo mirano proprio a valorizzare le competenze di ciascuno di noi e le diversità di ciascuno. Per cui mi sento di consigliare a tutti di frequentare un Master come questo per le competenze e gli arricchimenti che ci possono dare. Per ulteriori informazioni sul Master consultate il sito della Challenge School. Grazie a tutti!